Scrivere i numeri su un abaco. Questo è il valore di un angolo. Il valore di due angoli. Il valore di tre angoli. Il valore di quattro angoli, modificato con la scrittura corsiva. Questo è l'abaco piccolo. Con i tuoi perline in base 5. E con i tuoi perline in base 10. Questo è il perline inferiore in base, 5, 5, 5. Questo è il perline a più alto in base, 10, 10, 10. Questo è la paleografia di valore 5 corsivo. Questo è la paleografia di valore 5 corsivo, più una linea ascendente. Questo è la paleografia di valore 5 corsivo, più due linee ascendente. Questo è la paleografia di valore 10 in corsivo. Questo è la paleografia di valore 10 in corsivo, in cui è stata scritta la diminuzione di una riga. Questo è la paleografia di valore 10 in corsivo, in cui è stata scritta la diminuzione di due riga. Questa è l'immagine dei paleografi specchiati sul piccolo abacus Le perlina del piano superiore sono le immagini speculari di quelle del piano inferiore dell'abaco Questa è la barra del piccolo abacus La scrittura del numero 5 inizia con il disegno della sbarra dell'abaco seguita dal disegno dello stelo che scende fino alla perlina La cifra viene poi completata cerchiando parzialmente la perla stessa, che ha il valore 5 Il numero 6 inizia circondando una perlina con il valore 5 aggiungendo una linea inclinata verso l'alto Il numero 7 si scrive disegnando prima la sbarra dell'abaco e poi aggiungendo una linea inclinata verso incontrare alla perlina, in il basso Originariamente questa linea seguiva il contorno della perlina ma nel tempo un cambiamento ha portato all'uso di una linea tangente e inclinata verso l'alto per intersecare la linea ascendente originaria Il valore 10 è scritto con il perlina sul ponte superiore, che rappresenta la importo di decina sul piccolo abacus Il valore 9 è scritto con sul piccolo abaco il perlina che rappresenta il valore di decina meno il valore di una linea diretta verso il basso Il valore 8 è scritto con il perlina con il valore decina sul piccolo abaco, meno il valore di due righe dirette verso il basso L'uso della calligrafia, con scrittura corsiva, ha unificato le due righe inferiori del numero 8 L'uso della calligrafia, ha unificato le due righe dirette verso il basso Non è vero il gio Iniziamo il capo Ogni un po'